E' un piacere vedervi così numerosi. Stasera parliamo di relatività e parliamo in particolare di una formula. E' una formula che abbiamo visto tutti, prima o poi credo, E uguale mc al quadrato. Una formula che molti hanno anche magari scritta sulla maglietta, ma è una formula che probabilmente pochi in realtà capiscono. Non siamo qua per fare un sondaggio su quanti la capiscono e quanti meno, ma siamo qua per capirla. Per capire come è nata, per capire perché è così importante e per capire soprattutto che cosa vuol dire. Allora, a raccontarci tutto questo è un ospite d'eccezione, Christophe Galfard. Christophe Galfard è nato a Parigi, una quarantina d'anni fa si può dire, più o meno. Quindi è molto giovane, questo lo dico a mio favore. Ha studiato prima matematica, poi ingegneria. E infine ha conseguito un dottorato in fisica a Cambridge sotto la guida di Stephen Hawking. Ebbene, è qui questa sera per parlarci di relatività e in particolare della formula E uguale mc quadro. E tutto quello che dirà, o parte di quello che dirà, lo potete ritrovare in questo agile volumetto, come si usa a dire. Un libro di una settantina di pagine, edito da Bollati Boringhieri, che si intitola proprio Come capire E uguale mc quadro. Il libro, io lo dico, lo trovate poi all'ingresso e Christophe Galfard sarà anche disponibile a firmare le copie per voi. Ora, scrivere un libro sulla relatività in 68, per la precisione, pagine, non so se sia facile o difficile. Forse è più difficile che facile. Sì. Ma allora facciamoci raccontare queste pagine e io do subito la parola e il microfono a Christophe Galfard, che verrà fra voi a raccontarvi la relatività. Il nostro corpo ha cinque sensi a sua disposizione per poter in qualche modo controllare, conoscere il mondo che lo circonda. Ma questi cinque sensi sono paragonabili a cinque finestrine molto piccole, che si aprono su una realtà molto ampia, molto vasta. I nostri sensi sono adattati alla nostra vita, quindi sono adattati alla nostra taia. Non bisogna che le cose siano troppo grandi, non bisogna che le cose siano troppo piccole, non bisogna che le cose siano troppo rapide. Quindi questi sensi, i nostri sensi sono adeguati e servono ad assicurarci la vita, la sopravvivenza. Quindi è anche una questione di dimensione. Se le cose sono troppo grandi o troppo piccole, o se vanno troppo velocemente, i nostri sensi non sono in grado di percepirle. Allora, quando si va nel piccolo piccolissimo si entra nel mondo della quantica ed è incomprensibile. Se si va nel grande, nel grandissimo, si entra nell'ambito del discorso sulla gravitazione, e anche questo è incomprensibile. Se le cose diventano molto veloci, a questo punto subentra questa equazione di E uguale a MC al quadrato, e anche questo è incomprensibile. Ma ce che è geniale, ce che è molto rapido, è che il molto rapido ha lieu nel molto piccolo e nel molto grande. Quindi c'è un lien tra tutto ciò che conosciamo attorno a noi. Quello che è veramente stupefacente, direi geniale, è che la velocità, quello che è veloce in realtà, lo si ritrova sia nel piccolo che nel grande. Est-ce che vous voulez che je danse entre les due momenti di traduzione? Se volete posso fare qualche passo di danza tra il mio discorso e la traduzione. Quindi oggi vi parlo di questo, E uguale a MC al quadrato, cioè è la teoria della relatività ristretta di Einstein. Prima di tutto vorrei spiegarvi perché si studia fisica a scuola. Est-ce che qualcuno ha soif? Avete sete? Qualcuno di voi ha sete? Tu la vattra. Je l'ai overte, je vais vous la lancer. Apro la bottiglia e gliela getto. Scommetto che la bottiglia volerà. Dovrebbe arrivare poi più o meno qui. Qua si ferma. Revenire in arrière, dans ma mano. Ritorna in mano, mi ritorna in mano. On essaye? Proviamo? Ok. C'è, eux, ils disent oui, 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 oui. Loro dicono di sì. Perché ridiamo di fronte a questa affermazione? Perché tutti pensiamo nel nostro fondamento, nel nostro profondo, che in realtà non è possibile. E questo perché intuitivamente abbiamo tutti la sensazione e la consapevolezza che esistono delle regole in natura. E la fisica, appunto, è lo studio e la ricerca di queste leggi. Allora, on ha de la chance, parce que la natura autour de nous, il y a des choses qui se répètent. Tout n'a pas lieu qu'une seule fois. Il y a des choses qui se répètent une fois, deux fois, mille fois. Abbiamo la fortuna del fatto che in natura le cose generalmente si ripetono, alcune si ripetono anche cento, mille volte. Mais si on essaie de comprendre l'univers tout entier, si on essaie de comprendre des lois qui s'appliquent un petit peu partout, on est un peu obligé de trouver des principes. Però, se ci interessiamo all'universo, alla completezza dell'universo, quindi a delle leggi che dovrebbero riguardare tutto l'universo, a questo punto siamo praticamente obbligati a cercare delle leggi che siano applicabili un po' a tutto. Allora, un esempio di principe sarebbe, par exemple, che noi siamo al centro dell'universo. Pensiamo, al titolo d'esempio, di essere nel centro, nel cuore dell'universo. Un autre principe serait qu'il n'y a absolument aucune raison pour que quelqu'un, quelque part, soit privilegié dans sa compréhension de l'univers par rapport à quelqu'un d'autre. Un principio potrebbe essere quello, appunto, che non esiste nessuno, in un qualsiasi punto dell'universo, che sia privilegiato rispetto ad altri, nella conoscenza dell'universo. Ce deuxième principe s'appelle le principe de relativité de Galilée. Questo secondo principio è il principio della relatività di Galilée. Galilée, il s'est posé la question suivante. Imaginez que vous êtes dans un bateau, sur une mer complètement calme. Il n'y a pas une vague, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Allora, Galilée, si era posto questa domanda, che faccio anche a voi. Immaginate di essere su una barca, una barca su un mare assolutamente calmo, dove non c'è un'onda, dove nulla si muove. Vous êtes dans la cal, all'intérieur du bateau. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout. Voi siete nella stiva della nave, non ci sono finestre, non c'est niente. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une idée de comment vérifier depuis cette cal si le bateau avance en ligne droite à une vitesse constante ou s'il est à l'arrêt ? E qualcuno di voi sa, sarebbe in grado di dire come ci si potrebbe rendere conto all'interno di questa stiva che la nave va, va diritta, segue una rotta retta, e a che velocità va ? Très bien, parce que ce n'est pas possible. Molto bene, la risposta giusta. In effetti è impossibile saperla. Le principe di relatività di Galileo dice che è impossibile di dire, dopo questa calda di bateau, se il bateau va, va diritta, a una velocità constante o non. In effetti, il principio della relatività di Galileo dice proprio questo, che è impossibile all'interno di questa stiva della nave capire se la nave si muove, va diritta, e eventualmente a che velocità. Là, on può le vérifier come ça. Là, io ne buggo, non c'è, vorrei fare tomber il micro. Ad esempio, lo possiamo anche verificare così. Non mi muovo, faccio cadere il microfono. Ça va. J'espère che vous avez un'assurance sur le micro. Spero che abbiate una polizza. Perché adesso lo farò invece camminando. On va voir se ça marche, se ça funziona. Vediamo se funziona. Il è tombé dans ma main, tutto droit. È caduto, di nuovo, diritto in mano. C'è, c'è il principe di relatività di Galileo. Il n'y a pas de differenza. Questo è il principe della relatività di Galileo. Cioè, non c'è differenza. Ce genre de principe, appliqué à la science, est à la base de toute la physique qu'on fait aujourd'hui. E questo principio applicato alla scienza, e questo principio della relatività di Galileo, applicato praticamente a tutta la conoscenza scientifica, a tutta la scienza che studiamo oggi. Cioè, quello che stiamo facendo è cercare dei principi, delle analogie, delle simmetrie che possano applicarsi a tutto quello che c'è nell'universo. Allora, a partir du principe de Galileo, on peut commencer à avoir des idées sur le fonctionnement de l'univers tout entier. Newton, par exemple, quelques centaines d'années après, quelques temps après Galileo, c'est dit que les lois de la physique qu'on trouve sur Terre marchent dans l'univers tout entier, pas que juste sur Terre. Ad esempio, appunto, a partir da questo principio della relatività di Galileo, si può iniziare a farsi una serie di idee sul funzionamento dell'universo. Ad esempio, Newton, che ha seguito di qualche anno Galileo Galilei, aveva trovato una legge della fisica secondo cui, appunto, tutto quello che succede in Terre, in realtà, nello stesso modo, succede in tutto l'universo. Et je suis en train de réaliser que, si je vais parler un petit peu plus vite dans ce que je vais vous expliquer, on est là encore demain matin. Sendo conto che se non vado un po' più veloce, domani mattina siamo ancora qui. Alors, je vais y aller... Vous êtes tous très fortes. Pardon? Ils sont tous très fortes. Vous êtes tous des scientifiques. Siete tutti degli scienziati. Vous avez tous des connaissances de base en théorie quantique des champs, en espace courbe. La quantistica, sapete tutto di questi temi. Donc, on peut aller un po' più vite. Posso parlare e andare un po' più rapidamente? Bon, ma è, très bien, on va faire ça. A partir de principe, on se dit qu'on peut appliquer, non pas juste all'universo qui est autour de nous, des idées, mais on peut les appliquer aux formules scientifiques elles-mêmes. Appunto, à partir de ces principaux, quello que si dit c'est que, appunto, non si possono appliquer ces idées à l'universo, mais les si possono appliquer à des formules scientifiques. Un principe nous dit la forme d'une équation. Grâce à un principe, on peut savoir si une équation corresponde, peut-être, à la réalité ou pas. Ad esempio, grazie, appunto, à un'équazione, si può capire se un principio, effettivamente, si adegua e corrisponde a quest'équazione. Pour résumer, le principe de relativité, c'est un principe qui dit qu'il n'y a aucune différence dans la vision du monde entre quelqu'un qui bouge et quelqu'un qui, apparemment, avancerait par rapport à cette personne. Ça veut dire, en gros, qu'il n'y a pas une vitesse particulière, si jamais vous l'avez, tout d'un coup, le monde devient simple et beau et magnifique et vous comprenez tout, alors que toutes les autres vitesses, vous êtes là, ouah, assez compliqué. C'est pas trop compliqué, on peut tous dire oui, c'est normal, c'est équitable, l'univers est fait ainsi. Alors, ça, ça marche si toutes les vitesses sont, effectivement, équivalentes les unes aux autres. sauf qu'il y a au moins une vitesse qui n'est pas la même que les autres. C'est la vitesse de la lumière. Et c'est la vitesse de la lumière, on a un petit problème. parce que l'un des principes d'Einstein c'est qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Parce qu'un des principes qui varient, appunto, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. mais du coup, ça devient extrêmement bizarre. Donc, tous le sanno que non si peut superare en aucun cas la velocité de la lumière, mais, à l'heure, il y a quelque chose de drôle. Le monde lui-même devient bizarre. Et aussi le monde devient un peu drôle. Par exemple, imaginons que là je sois sûr, je sois moi là, tranquillement. Alors, imaginons que je me mette ici, tranquillement. Et je prends mon stylo. Prends une penne. Ton stylo. Et assicuré, anche qui. Si assuré. Et je le lance. Et la lancio, la butto. Sorry. Le stylo est parti devant moi. Alors, la penne l'a lancié davanti à moi. Il est allé plus vite que moi. Andava plus veloce, andata plus veloce de moi. Si je fais ça avec de la lumière, Si je fais ça, la même chose avec la luce, Il se passe quoi ? Que cosa succederebbe ? Ou plutôt, pas encore à la vitesse de la lumière, mais juste avant la vitesse de la lumière. Imaginons que je marche à la vitesse de la lumière moins un kilomètre par heure. Alors, imaginons que je vada à un kilomètre à l'heure quasi à la velocité de la luce. Un moins, excusez-moi. C'est-à-dire, non j'ai encore atteint la velocité de la luce, ma vado à un kilomètre moins de la velocité de la luce. Et que je lance le stylo très vite devant moi. Et lancio la penne avec toute la force davanti à moi. Ou un téléphone. Un téléphone. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire ? Il va à quelle vitesse mon stylo ? A quelle vitesse andrebbe la penne, in questo cas ? Il va arriver à la vitesse de la lumière et le dépasser ? Andrebbe oltre la velocità della luce. J'ai entendu un non là. Mais alors il vient quoi à mon stylo ? Comment il fait ? Elle passe où cette énergie que je lui donne à mon stylo en le lançant ? Qu'est-ce qui se transforme cette énergie que je trasmetto à la penne lanciandola in avanti ? Il se transforme, cette énergie elle se transforme en masse. d'une certaine manière. Il se transforme en masse. Cette énergie diventa masse. Au lieu d'aller plus vite, au lieu de se transformer en ce qu'on appelle de l'énergie cinétique, le stylo va être de plus en plus, va peser, disons, de plus en plus lourd. Il va avoir une... Il va peser de plus en plus lourd. Quindi, invece d'andare plus veloce, la penne, quindi d'acquisire maggiore energia cinétique, diventa sempre plus pesante. Si j'allais à la vitesse de la lumière et que je lançais mon stylo devant, déjà je ne pourrais pas, parce que le stylo ne pourrais pas aller lui-même à la vitesse de la lumière. Pour aller à la vitesse de la lumière, il faut enlever toute sa masse. Il faut perdre sa masse. Si vous voulez un jour voyager dans l'univers à la vitesse de la lumière, il faut que vous laissez votre masse derrière vous. Quindi, si je voulais lancer cette penne à la velocité de la luce, prima de tout, ce serait impossible, ma, comunque, per poterlo faire, bisognerebbe far sì che perdesse tutta la massa. E così pure, se volessimo viaggiare un giorno nell'universo, per poterlo fare, dovremmo perdere tutta la massa. Je vais changer un petit peu tout ce que je vais raconter. Je vais aller en fait beaucoup plus vite, comme ça on va pouvoir faire des questions et des réponses, ce sera plus simple que d'aller comme ça, sinon je n'aurai jamais le temps de tout raconter. changer un peu le stile de mon intervento, je voudrais faire plus que d'autres demandes, avoir des réponses, sinon je ne ferai jamais à temps d'avoir aussi... Alors, je vais juste vous faire un résumé rapide de ce que signifie la relativité restreinte d'Einstein. Alors, inizierei con un riassunto molto rapide de ce que c'est la relativité restreinte d'Einstein. C'est une théorie qui est basée sur deux principes. C'est une théorie basée sur deux principes. L'un d'entre eux je viens de vous le dire c'est la relativité des vitesses. C'est-à-dire que l'un des deux principes pardon, c'est de dire que la nature est la même quelle que soit votre vitesse. Alors, le premier principe dit appunto que la nature est la même indépendamment d'une vitesse. Le deuxième principe c'est qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière et que la vitesse de la lumière a toujours la même vitesse qui que ce soit qui la mesure dans le vide. Il secondo principe est qu'il est impossible d'aller à la stessa velocité de la luce que la velocité de la luce est sempre la stessa indépendamment de qui la misure quand il est dans le vuoto. Ces deux principes ne sortent pas d'un chapeau. Ils ne sortent pas de nulle part. Ce sont des résultats expérimentaux. Ce sont des résultats expérimentaux. En regardant le comportement de la lumière, des astres, aujourd'hui des lasers, etc., on ne voit pas le moindre indice qui serait contraire à ces deux principes. Et ce qui est extraordinaire c'est que ces deux principes tout simples ont complètement transformé la notion même de cet univers dans lequel on habite. Et ce qui est extraordinaire c'est que ces deux principes qui semblent assez simples ont transformé complètement la notion de l'univers dans lequel on vivait. Par exemple, à la fin du XIXe siècle, il y a un monsieur qui s'appelle James Maxwell, un écossais, qui a réussi à comprendre comment fonctionnent l'électricité et le magnétisme. Il y a réussi à unifier l'électricité et le magnétisme en une seule théorie qu'on appelle l'électromagnétisme. Et il a vu cette chose extraordinaire dans ses équations à lui. Il a vu qu'apparemment l'électromagnétisme quand vous bougez un aimant ça crée une vague, ça crée une onde qui se propage. Et il a vu une chose extraordinaire facendo appunto les sues observations et applicant les sues équations c'est que l'électromagnétisme fait si appunto que ci siano des forces qui ont un potere comme si fossent des magnétiques et magnétiques qui créent des ondes et des ondes qui se propagent. Un peu comme quand on bouge une bouée à la surface d'un lac. Un peu comme quand on bouge une bouée qui se passe sur la superficie d'un lago. Un peu comme l'air bouge lorsque moi je parle et devient une onde qui arrive jusqu'à vos oreilles. Ed est aussi la stessa chose que succede quand je parle l'aria se mueve et ça forme une onde qui arrive jusqu'à vos orecchies. Mais pour ma parole pour le son l'onde on sait dans quoi elle se propage c'est dans l'air. Et on sait ce que c'est c'est du son. Et on sait qu'on sait ce qui signifie qu'il y a un son. À la surface d'un lac c'est une vague qui se propage dans l'eau. Sulla superficie du lago ce qui se forme c'est une onde qui se propage sur la superficie. Pour l'électromagnétisme c'est quoi ce qui se propage ? Maxwell il a découvert que ce qui se propage lorsqu'on bouge un aimant c'est la lumière. que la lumière est une onde électromagnétique. Et appunto Maxwell nella sua teoria de l'électromagnétisme a scoperto que quello que si muove appunto con l'électromagnétisme est la luce e la luce che se propage spostando dei magneti. Non? Non, l'onda. scusate. Comme l'onda elettromagnétique. Comme l'onda, si. Je crois qu'on pourra donner à notre amie traductrice un diplôme honoraire à la fin de cette conférence parce que ce n'est pas facile. C'est très gentile. L'idée, pardon, du coup, oui, la lumière c'est une onde électromagnétique. Mais dans quoi est-ce qu'elle se propage? Pour la voie c'est l'air, pour les vagues c'est l'eau, pour la lumière c'est quoi? Quindi la luce effettivamente est une onde elettromagnétique. Mais comment et où se propage? Abbiamo visto le sonno, l'aria, l'onda sur l'acqua, la superficie de l'acqua. La luce attraverso que cosa se propage? Les scientifiques à la fin du XIXe siècle ont cherché ce truc dans lequel la lumière pourrait se propager et ils l'ont appelé l'éther. Gli scienziati alla fine du XIXe siècle hanno studiato et recherchato quale fosse questo ambiente attraverso cui si propagava la luce e l'hanno chiamato etere. Et c'est en cherchant la vitesse c'est en cherchant cet éther que les scientifiques ont réalisé que un l'éther n'existe pas c'est pour ça que personne n'a jamais entendu parler et deux que la vitesse de la lumière est toujours la même toujours. La vitesse de la luce est sempre la stessa non cambia. Après déjeuner pareil le soir pareil le matin pareil. c'est sempre la stessa dopo pranzo dopo cena e dopo la prima colazione. Malheureusement les équations de Maxwell très jolies qui sont à la base d'absolument tout ce que vous avez d'électromagnetique chez vous tout est basé sur les équations de Maxwell. Elles sont vraiment très jolies et vraiment très efficaces mais elles n'obéissent pas au principe de relativité de Galilée. Et ça les scientifiques ils n'étaient pas content. Parce que pardon. Quand l'ha scoperto gli scienziati ovviamente non erano molto contenti. Parce que les équations de Maxwell elles marchent quand même extrêmement bien. Et parce que appunto queste équazioni in realtà funzionano molto bene. La relativité restreinte d'Einstein a permis de comprendre pourquoi qu'est-ce qu'il fallait faire comme changement pour que la relativité reste valide valable et que les équations de Maxwell fonctionnent quand même. et appunto in realtà grazie d'a quel point les scientifiques peuvent être prétentieux. Je vais vous raconter une petite histoire à propos de ça. Quindi so que tra di voi ci sont degli eminenti scienziati soprattutto nelle prime file però vorrei mostrarvi ora appunto que cosa han fait gli scienziati plutôt que de dire que Maxwell avait tort les scientifiques comme Einstein enfin surtout Einstein se dit bon non en fait Einstein ok Maxwell il a raison c'est nous qui ne comprenons pas ce que sont l'espace et le temps l'espace et le temps ne sont pas ce qu'on croit qu'ils sont donc au lieu de remettre en question Maxwell il a remis en question l'espace et le temps et appunto piuttosto et per non dire gli scienziati cosa non volevano assolutamente dare torto a Maxwell quindi Einstein fra questi ha deciso che piuttosto metteva in dubbio quello che si sapeva dello spazio del tempo e hanno semplicemente detto appunto lo spazio e il tempo non sono quelli che noi crediamo je dis que c'est Einstein qui a trouvé tout ça il n'y a pas que lui c'est juste pour aller un petit peu plus vite les personnes qui ont découvert que l'espace et le temps changeaient sont Lorenz Minkowski et tout ça mais Einstein a mis l'ordre un petit peu dans toutes ces idées un peu confuse qui pouvaient exister all'époque si ho citato solo Einstein fra questi scienziati in realtà ce ne sono stati altri primi Lorenz Minkowski però è Einstein che ha messo un po' di ordine in questa situazione ce qui s'est passé ensuite c'est que tout d'un coup est rentré cette idée de tout est relatif dans l'esprit des gens dans un sens scientifique ça veut dire quoi ? tout est relatif ça veut absolument pas dire qu'on a le droit de penser n'importe quoi ça veut absolument pas dire que toutes les idées ont une valeur équivalente ça veut pas dire que si vous pensez que la Terre est ronde et quelqu'un vous dit non elle est plate et qu'on vous répond tout est relatif ça veut pas dire ça du tout e non vuole neanche dire nel caso in cui vous diciate a qualcuno la Terre rotonda lui vous dice no è piatta e questo non è che voglia dire che tutto è relativo non conferma l'idea che tutto è relativo le tout est relatif d'Einstein signifia la chose suivante questo è quello che vuol dire la relatività di Einstein c'est que c'est que la vision la connaissance d'une vitesse la connaissance d'une distance d'une durée toutes ces choses qui nous permettent de mesurer des événements autour de nous c'est ça qui va dépendre de qui il regarde la relativité d'Einstein permet de comparer des mesures faites par des observateurs différents e la relatività di Einstein in questo permette di confrontare fra loro misure che sono state fatte prese da persone diverse quindi se voi dite un schimpiaggio un'idiozia c'è qualcuno che può verificare se l'avete detta o meno la relatività restreinte d'Einstein unifie una vision globale du monde qui permet de comparer différents points de vue de personnes qui n'aurait par exemple pas la même vitesse quindi la relatività d'Einstein in realtà unifica armonizza una visione del mondo che permette di unificar la visione del mondo e di armonizzare quindi dei punti di vista che sarebbero potrebbero essere differenti perché emessi da persone diverse questo principe là il principe di relatività d'Einstein o di Lorenz o ce que vous voulez questo principe di relatività là è ancré al fondo della più di quasi tutti gli scientifichi che conosco tutti gli c'è praticamente tutti gli scienziati tutte le persone che conosco ammettono riconoscono questo principio della relatività come l'abbiamo enunciato quindi questo di Einstein e questo significa che se si elaborasse una teoria una nuova teoria sul funzionamento delle particelle quindi di quanto c'è di più piccolo quello che ci aspettiamo è che anche questa nuova teoria rispetti la relatività la teoria della relatività di Einstein e e una teoria che explica il comportamento delle particule ebbene abbiamo trovato una nel 1920 nel 1920 appunto è stata trovata una nuova teoria che spiega il comportamento delle particelle e e e è chiamata fisica quantistica e è chiamata fisica quantistica quindi due sono gli scienziati che hanno dato appunto reso questa visione del mondo e hanno elaborato le teorie della scienza quantistica sono Schrödinger e Heisenberg e Heisenberg e on aurait pu pensare che c'era molto bene le equazione di Schrödinger e Heisenberg dicono se si abbiamo una particola quantica ora ci si 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 quindi l'equazione di questi due scienziati permette di rilevare appunto il comportamento di una particella quantica e definire quello come si comporta e sapere che si comporterà così anche in futuro quindi seguirne da l'evoluzione però sfortunatamente il principio della relatività di Einstein non funziona con questa equazione e questo è quello che ha scoperto un tal signor Paul Dirac che non era poi molto contento di questa cosa Paul Dirac l'adore personalmente è uno di miei personaggi favori dell'histoire delle scienze è qualcuno che io amo moltissimo forse il mio personaggio preferito nella storia della scienza c'è una sorta di famiglia scientifica io c'è mon arriere grand père in famiglia scientifica c'è un po' la famiglia du coup j'ai il droit de critiquer nella mia famiglia diciamo scientifica lo considero un po' come il mio bisnonno quindi mi sento anche in diritto di criticarlo perché fa parte della mia famiglia la famiglia ça vient di dirac il ha eu des étudiants en thèse dont un qui s'appelle denis siama siama eu en tese en étudiante stefano king e stefano king moi j'ai été un de ses étudiants du coup c'è come mon arrière grand père gli gli dice ma ha intenzione di rispondere a questa domanda e lui risponde ma era una domanda mi è sembrata un'affermazione sa fille a dit a une conférence où j'étais qu'il était tout à fait normal que c'était exactement le genre de personnes qu'on a partout par exemple tous les mois elle le voyait pendant une heure en marchant dans la forêt sans dire un mot elle lui n'a jamais parlé la figlia appunto poi mi aveva detto che assolutamente era così lui cioè ad esempio lo vedeva camminare generalmente almeno una volta al mese camminava da solo in una foresta in un bosco e senza parlare a nessuno e loro non si parlavano fra di loro però è stato geniale equazione in un imposant la relatività alla fisica quantica il a trouvé dans ces equations qu'en fait l'univers d'une certaine maniera baigne dans une sorte de fluide quantique une sorte de mer faite d'énergie quantique e quindi noi siamo praticamente immersi in questo mare di energia quantica e qu'à chaque fois qu'une particule arrive quelque part elle a son miroir e quindi la particella che arriva in questo universo ha un suo specchio a chaque fois que vous avez une charge électrique plus par exemple il y a exactement la même chose qui existe en moins par exemple si vous avez un électron il y a l'opposé de l'électron qui devrait exister dans la nature et ça personne n'avait jamais vu ça l'opposé d'un électron ça n'existait et personne en avait besoin et on l'avait jamais vu on l'a détecté l'année d'après par un signore che si chiama Anderson Pour ça Dirac a eu le prix Nobel en 1933 et Anderson en 1936 il avait il avait découvert que la matière qu'on connaissait dans notre univers quindi lui aveva scoperto che appunto la materia che noi avevamo, che era stata all'epoca individuata nell'universo, era solo la metà di tutta la materia esistente. E aveva in questo modo scoperto l'antimateria. E oggi sappiamo che per tutta la materia conosciuta esiste l'antimateria. E questa scoperta è stata fatta proprio grazie alla teoria della relatività di Einstein. E appunto abbinando, imponendo l'equazione della fisica quantistica alla relatività, Dirac ha scoperto appunto l'altra metà della materia. E appunto abbinando, imponendo l'equazione della fisica quantistica alla relatività, delle lunghe storie, una piccola liste del genere di cose che E è uguale a MC2, che è una conseguenza della relatività, ha permesso di comprare nel nostro universo. Quindi adesso, piuttosto che farvi tutta la storia di queste scoperte, vi farei una lista di quello che abbiamo potuto conoscere grazie a questa equazione E è uguale a MC al quadrato, quindi in connessione con la relatività. Grazie a EGAL MC2, on sait pourquoi les étoiles brillino. Appunto, grazie a questa equazione sappiamo perché le stelle brillano. On sait pourquoi la radioattivité existe. Sappiamo anche perché esiste la radioattività. Ne serait-ce que ces deux notions-là nous permettent de comprendre pourquoi on existe nous sur Terre. E bastano solo queste due nozioni per capire perché noi esistiamo sulla Terre. Sans les étoiles, on ne peut pas comprendre d'où est formée la matière qui est autour de nous. Senza les stelles, non siamo in grado di capire come si è formata e come si forma la matière attorno a noi. Sans la radioattivité, qui chauffe notre planète à nous, la surface de notre Terre serait extrêmement froide et on ne pourrait pas habiter là. E senza la radioattivité, qui riscalda le planète, appunto, non avremmo sufficientemente caldo sulla Terre per poter vivere. Le E égale MC2, qui découle de la relativité restreinte d'Einstein, sera peut-être ce qui nous permettra un jour de faire de longs voyages dans l'espace sans avoir besoin de tonnes et de tonnes de carburant dans nos vaisseaux. E probabilmente quest'équazione E uguale a MC2, che deriva dalla teoria della relatività di Einstein, sarà quella che ci permetterà un domani di viaggiare nello spazio senza aver bisogno di tonnellate e tonnellate di carburante. Et vu que je suis sûr que vous avez plein de questions, je vais m'arrêter là pour les histoires et maintenant je vais vous laisser la parole, comme ça on va pouvoir discuter ensemble et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez sur l'univers, ce que vous voulez. Et donc, maintenant, je pense que je me fermerai ici, preferisque je laissez à vous la parole, parce que vous pouvez me faire des questions, nous pouvons faire, répondre, chiacchierer, finché volete, sur tout ce que vous voulez. Et bravo. Grazie a Christophe Galfard, e quindi se ci sono delle domande fatevi pure avanti, non vale dire non ho capito, vale non ho capito può ripetere. Io una domanda gliela vorrei fare, perché ho detto che Christophe Galfard ha studiato matematica, ingegneria, fisica, eccetera, non ho detto il seguito, lui a un certo punto ha lasciato poi la ricerca e si è dedicato a tempo pieno all'attività di divulgazione, ma non solo, perché credo che sia una passione che ha sempre avuto, ma lo facciamo dire da lui, quella dello scrittore, lui si presenta come scrittore e ha all'attivo una serie di libri, credo un po' di libri per ragazzi, sicuramente ha due libri che sono stati tradotti in italiano, uno è quello che abbiamo nominato prima, come capire E uguale MC quadro, l'altro è l'universo portata di mano, sempre dito da Bollati Boringhieri. Allora io gli chiedo, ma non è strano che un fisico sia anche scrittore, cioè nella mente di uno scienziato il fatto di saper raccontare o trovare delle storie, credo che sia importante. Come dice il nostro Piero Bianucci, lui quando scrive si ricorda di essere un fisico e quando fa il fisico probabilmente si ricorda di essere uno scrittore. come dice il nostro fisico probabilmente si ricorda di essere uno scrittore. in realtà, appunto, molto spesso si sente fare questa distinzione tra il letterario, lo scientifico, lo scienziato, lo sportivo, il non sportivo, il letterario. io veramente non capisco, non capisco perché si debba essere uno o l'altro. Par esempio, on può croire parfois che le scientifiche sono dei ragazzi che sono stati molto racionali, che non hanno molto d'immaginazione, che non obéiscono a una sola cosa, che è la riguorre matematica. E poi, che non si può andare più lungo, che non sia la pena di cercare di discutere con un scientifico, di tutte le fanno, si va s'endormire. Ad esempio, appunto, si tende a pensare che gli scienziati, o comunque le persone che sono portate per materie scientifiche, siano persone estremamente razionali, prive completamente di fantasia, di immaginazione, quindi semplicemente guidate da un rigore matematico in tutto quello che fanno. Quindi, persone con cui alla fine non si può discutere e non si può parlare, perché si rischia solo di addormentarsi. Ma quando pensiamo in due secondi, un ricerciore in fisica teorica, o una ricerciosa in fisica teorica, cosa fa? Si apprende, dai vecchi, tutto ciò che c'è del nostro mondo fino alla limite del sapere. Ad esempio, pensiamo soltanto per due secondi a questo. Che cosa fa una ricercatrice, un ricercatore di fisica teorica? impara, va a cercare, va a studiare tutto quello che chi l'ha preceduto, ha elaborato, ha teorizzato, quindi questo fino al limite estremo del nostro sapere. E al di là di questo limite, c'è cosa? C'è più che il nostro immaginario, c'è che il nostro immaginario che ci permette di fare dei passi nell'inconnue. e al di là di questo limite, che cosa c'è? C'è soltanto l'immaginazione, l'immaginario, quindi è questo che ci permette poi di superare questo limite e di fare dei passi e di entrare nell'ignoto, in quello che non si conosce. E c'è parfois tellement loin de tout che certi scientifiche hanno bisogno di creare il loro proprio langage per poter se muvoir, per poter voyager in questi universi nuovi. E a volte è talmente lontano questo che sta al di là, talmente lontano da tutto, che ci sono appunto degli scienziati, gli scienziati che cercano, elaborano un loro proprio linguaggio per poter viaggiare, per poter andare in questo luogo lontano da tutto. E al final, qu'est-ce che lo scientifico e la scientifica fanno? C'è che si cercano di raccontare un'istoria con un langage che è differente, che è codificato, che permette di fare delle predizioni, ma al final raccontano un'istoria. Quindi cosa fa lo scienziato a questo punto? Cerca di raccontare la sua storia, racconta una storia, cerca di presentare, proporre delle leggi codificate e che permettano appunto anche di predire in qualche modo quello che potrà succedere e questo lo fa appunto con una storia, raccontando delle storie. come un scrivente. Esattamente come uno scrittore. Non c'è nessuna differenza. C'è una differenza. Questa è la dimostrazione. Grazie. Una domanda dal pubblico. Sì, grazie. La domanda è questa. Non si sente però? La domanda è questa. Si sente? Grazie. Lei ci ha raccontato molto bene la storia di Paul Dirac, la previsione e poi la verifica dell'esistenza dell'antimateria. Che cosa si può dire? Come entra in questo schema la materia oscura? Non ha niente a che vedere. La... Pourquoi? Merci. Perché? Dans un caso, on essaie de... on découvre une particule en applicant un principe. Allora, in un caso si scopre una particella applicando un principio. Invece, nell'altro caso, nel caso della materia oscura, non si vede, non si capisce quello che si vede al telescopio. On applique le lois della gravità telle che l'on le connae a ce che si scopre nell'universo e i risultati teorici non corrispondono ai risultati esperimentali. e appunto dopo di che si applicano le leggi gravitazionali a quello che si vede nell'universo e i risultati teorici in realtà non corrispondono a quello che si vede. Du coup, en l'occurrence, on fait un peu confiance alla relativité générale d'Einstein, alla gravitation d'Einstein e on si dice che si c'è del ca allora e di gravità Si tratta di gravitazione, quindi non tanto di velocità elevate o di qualcosa di speciale, pure semplice gravitazione. Nell'altro caso, per l'antimateria, si tratta della relatività ristretta, quindi le leggi si cerca di capire quali siano le leggi che reggono il movimento. No, l'antimateria, scusi. Sì, comunque, insomma, dove la velocità è predominante. Se la materia noire è l'antimateria pura, per esempio, si interagirà con la materia, e questo lo vedremo. Quindi se la materia oscura fosse antimateria pura, interagirebbe con la materia, e quindi questo lo percepiremo, lo vedremo. Sono due campi distinti, ma insomma, però è un po' come con Maxwell, piuttosto che dar torto ad Einstein. Non, ma insomma, è un po' come un po' come Maxwell. Sì, non iscriv�ò cosa, o sono trash ansia, Questo non survived il risultato, del mondo, questo non è tutto il caso, è anche pire che ciò, tutte le teorie che abbiamo sape che sono incompletta, sape che ciò che ciò ne sape manca di bambini, ma dove all'exattamente commencenti questi cambiamenti? Il y eno che pensano che bisognava cambiare radicalmente, per esempio, per spiegare la matire noire, senza avere bisogno di matire noire, in altri pensano che è molto più lungo che bisognava cambiare. Quindi, appunto, oggi ci sono una serie, sono state fatte una serie di osservazioni indipendenti e che portano più o meno agli stessi risultati, però quello che si deve anche capire è che queste teorie esistenti non sono assolutamente, non hanno detto la parola fine alla ricerca, non sono definitive per quanto riguarda la comprensione del mondo, anzi, peggio ancora, quello che si sa con certezza è che queste teorie sono assolutamente incomplete, quindi devono essere ulteriormente definite. Alcuni pensano che questi cambiamenti devono addirittura partire dalla concezione delle galassie e anche molto oltre. Ci sono ancora molte domande, quindi cerchiamo di rispondere a tutte sia... Prego. Vorrei fare solo un'osservazione alla professione. Cioè, esiste questo mondo infinitamente piccolo, delle cose infinitamente piccole, un mondo delle galassie, un mondo infinitamente grande, però mi viene da pensare che l'infinitamente grande è composto da infinitamente piccolo e questo estremamente piccolo a un certo punto diventa così piccolo, devo pensare, che il piccolo si annulla e diventa energia e se diventa energia a un certo punto mi viene quasi in automatico di pensare che diventa vita. Se diventa vita, diventa una cellula. Posso... è logico aver fatto questo strano mio ragionamento o è un qualche cosa che non ha senso? Non ho capito niente. È un'affermazione. Forse è un po' forzato negli ultimi passaggi. Non lo so. Il faut... Il faut... Pour revenir sur l'idee que nos théories ne sono pas terminées, il y a des mystères partout. Mais les mystères sont ça. Des mystères. Il y a une différence entre savoir qu'un mystère existe et donner une solution à ce mystère. La maggior parte dei ponti che sono fatti tra le discipline stanno magari logiche, intuiti, evidenti ma non corrispondono a la realtà tali che la comprende oggi Le ponti sono sempre bello, molto agriamo ma è abbastanza raro che corrispondi alla vera natura Abbiamo detto che quello che sappiamo per certo è che le teorie attuali non sono definitive esistono dei misteri, i misteri sono questi sono semplicemente dei misteri per cui bisogna forse accettarli tra sapere che esiste un mistero e indicare una soluzione c'è comunque una differenza e anche quest'idea di fare dei ponti tracciare ponti tra le discipline che è una cosa molto interessante che sembra molto logica, evidente in realtà questo non sempre è possibile non sempre corrisponde alla realtà quindi i ponti che possiamo fare possono essere molto piacevoli ma è molto raro che funzioni ma la velocità della luce detto che siamo sempre in questo tema non abbiamo capito la velocità della luce la velocità della luce si potrebbe rallentare in confronto a quella che è ah, voi rigolevi tutti ridete, ridete allora, on va voir chi parmi voi pensa che si può ralentire la luce? chi è di voi che pensa che si possa ridurre la velocità della luce? chi pensa che sia impossibile? e chi pensa invece che sia impossibile? aia, aia, aia ci sono solo 4 persone che hanno risposto il resto è materia oscura allora, sì, on può ralentire la vitesse della luce si, si può ridurre la velocità della luce ma... chi è conto? buona risposta ma non nel vuoto però non nel vuoto però nel vuoto la vitesse della luce è sempre la même sempre per cambiare la velocità della luce bisogna la mettere ailleurs che nel vuoto l'una delle fasi di vedere che la velocità della luce cambia è quando guardi un battone in l'eau on va avere l'impression che il è cassato che il è tordo ma non nel vuoto e la ragione per la quale la vediamo come questo è, tra l'altro, perché la velocità della luce cambia in l'eau par rapporto a l'air ad esempio, appunto, come dicevo la velocità della luce nel vuoto non cambia mai è sempre uguale a se stessa dobbiamo porla in un altro ambiente ad esempio, immaginiamo quello che si potrebbe avere come immagine se mettessimo una barca nell'acqua all'interno dell'acqua potrebbe sembrarci rotta avere delle parti rotte proprio perché, appunto, è la velocità della luce che cambia, ce la fa vedere in un modo diverso e per te dire a quel punto c'è una buona question ce che tu poses c'è un dei très très joli prix Nobel esperimentali che ha été discerni a un laboratorio français che s'appelle Kassler-Brussel nel quale hanno riuscito a arrêter la lumière E tanto per dire quanto è stata buona la tua domanda ci sono dei premi Nobel appunto, sperimentali che sono stati dati a uno studio francese un laboratorio che si chiama Kassler-Brussel proprio perché questo studio questo centro è riuscito a fermare la luce Ma la luce con la quale abbiamo a che fare noi in realtà non viaggia veloce come la luce perché non è mai nel vuoto Ah sì? Sì, sì No, lo sapevo per quello l'ho detto era un'affermazione C'è una domanda di qua? Ma però la teoria della relatività ristretta l'equazione E uguale a MC2 Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Perché ci ha raccontato come ci siamo arrivati e quali sono le implicazioni ma abbiamo un minuto La domanda è questa quella che ci dobbiamo fare di che cosa è fatto il nostro universo? La risposta che ti do ora è quello che noi pensiamo adesso Allora, di che cosa è fatto l'universo in cui viviamo? Adesso cercherò di darti un'immagine che forse è un po' complicata però funziona Noi abbiamo lo spazio e il tempo Che sono partù Siamo circondati da questi due elementi spazio e tempo Che sono tutti parei partù ma sono partù nel nostro universo Non sempre sono uguali ovunque però li troviamo dappertutto All'interno di questo spazio e di questo tempo c'è dell'energia E all'interno di questo spazio e di questo tempo c'è l'energia Allora, che cosa vuol dire dell'energia? E cosa significa energia? C'è tante definizioni che possiamo dare dell'energia Per esempio posso spingerti Questa è energia Per esempio posso far cadere un oggetto ed è un'altra forma di energia che si libera posso rompere un atomo e anche questa è un'altra forma che è l'atomo che è la massa La massa è un paquete d'energia e quanta massa il fatto che c'è è come se quando si passa dall'euro al dollaro c'è un tasso che fa cambiare il valore della moneta la trasforma in energia e questa energia può essere utilizzata come è stata per la bomba atomica e quindi è stato catastrofico ma è qualcosa che esiste nella natura però è una forza che esiste in natura Quando un atomo della terra se casse i due piccoli che restano se tu li metti insieme e li pesi sono meno lourdi che l'atomo che tu avessi al passato Se tu prendi un atomo e lo rompi e misuri i pesi le due parti di atomo che ottieni in questo modo la somma del peso delle due parti è inferiore al peso dell'atomo intero Perché quando un atomo si rompe libera energia quindi è l'energia che noi chiamiamo radioattiva All'inverse per i piccoli gli atomi li incolli insieme in realtà la somma del peso dei due atomi è inferiore all'atomo di partenza E questo è quello che succede nel cuore delle stelle prego prego anche Christophe di essere conciso nelle risposte nelle prossime Buonasera Dov'è? Sono qua Sono qui Buonasera Dunque se ogni microparticella ha la sua antiparticella e l'universo è fatto di materia come mai è fatto di materia invece di essere fatto di nulla perché si sarebbero dovuti annichilare annichilire materia e antimateria al momento del Big Bang Allora non abbiamo la risposta definitiva a questa question Non esiste non abbiamo ancora la risposta definitiva a questa domanda Ma Anna che è seduta qua tra il pubblico sta proprio lavorando su questo Il semblerait che statisticamente c'è più di chance di avere di materia che di antimateria Sembrerebbe statisticamente che sia più probabile avere che ci sia materia rispetto all'antimateria Porquò Perché? Va a savoir Chissà Chi lo sa Un'altra domanda lassù Lo spazio e il tempo sono due parametri assoluti o sono variabili in funzione della teoria di Einstein e non Einstein Einstein non Einstein Allora tutto dipende del liveo al quale voi place tutto dipende dal livello che ci si pone si spazio l'espasio e il tempo sono che si può definire localmente Quindi se vi occupate di gravitazione normale quindi se cercate di capire quali siano i movimenti degli oggetti di oggetti normali a questo quindi stabiliscono una certa uguaglianza tra due nozioni che inizialmente erano considerate un po all'opposto E quindi questa è la teoria della relatività ristretta di Einstein dove non c'entra la gravitazione Se invece vogliamo introdurre anche la nozione della gravitazione si tratta a questo punto della teoria della relatività generale di Einstein e questa teoria dice non che l'energia è uguale la massa ma che la geometria di nostro universo è uguale ce che l'univers contiene cioè questa teoria direbbe a questo punto non che l'energia è uguale alla massa ma che quello che contiene il nostro universo ma pardon ma plutôt che la teoria la relatività generale nous donne un'égalità entre geometria dell'univers c'est-à-dire dell'espasso e contenu c'è un'égalità entre contenant e contenu quindi appunto la relatività generale di Einstein stabilisce l'uguaglianza tra la geometria dell'universo quindi con le concetti di spazio e tempo e il contenuto uguale al contenitore il contenitore è lo spazio tempo l'espasso tempo tel qu'il è compris par la gravitation d'Einstein fonctionne pas de maniera intuitive ma fonctionne très bien si la gravitation n'est pas trop extrême ma on sait che dès che ça devient extrême le notion même d'espace e de temps ne fonctionnent non funzionano più du coup de penser que l'espace et le temps sont des notions absolues ce n'est pas possible et quindi non è possibile pensare che le nozioni di spazio e tempo siano nozioni assolute et ça c'est vraiment le niveau de base de gravitation si on met du quantique dedans là ça devient encore plus étrange et questo è il livello base della teoria della gravitazione se si aggiungesse anche la fisica quantica diventerebbe ancora più complesso ultimissima domanda qui buonasera innanzitutto grazie grazie mille a fronte di quello che lei ha anche detto prima rispondendo a una domanda considerato che i buchi neri non emettono luce anzi la catturano vorrei sapere se è corretto ipotizzare con grossa approssimazione se sono più massa o più energia se sono una rappresentazione di più della massa o di più dell'energia grazie quindi non entriamo in considerazioni tecniche sui buchi neri a quest'ora però emettono luce ma ce che è importante in rispondendo a vostra question c'è che non rispondendo di un punto di gravità d'Einstein c'è exactement ce che ho detto a il è la même cosa c'è la ma che sia la massa che l'energia che sia una pura corbura dell'espas e del tempo non ne change rien c'è pareil appunto però a questo in realtà non ci sono risposte anche se rispetto alla gravitazione di Einstein è la stessa cosa la massa e l'energia sono assolutamente la stessa cosa che sia una curvatura un spazio curvo è uguale c'è un microfono che intanto è già lassù allora facciamo queste due domande rapide sono giovani quindi fanno come un adulto ma lo spazio è tondo perché è un pallone perché fuori non c'è niente e dentro non c'è niente e dentro cosa c'è lo spazio allora c'è pas facile de se représenter l'univers dans sa tête non è facile avere un idea dell'universo farsi proprio in mente un'idea dell'universo non sappiamo se l'universo è finito o infini non sappiamo se l'universo sia finito o infinito quello che sappiamo però è che quello che noi siamo in grado di vedere dalla terra è finito ma questo significa che poi al di questo non c'è niente no matematica ma per questo c'è qualcosa di veramente geniale che abbiamo inventato che è la matematica e grazie a matematica on arriva anche se non ne possiamo vedere in nos têtes a creare dei universi che sono finiti io volevo chiedere ma come abbiamo fatto a calcolare la velocità della luce in modo preciso nonostante la sua enorme velocità perché siamo bravissimi c'è dei progri tecnologici che permet ça o bien il ha beaucoup de maniere il ha aujourd'hui on peut le faire en utilisant des lasers en utilisant des détecteurs ultra précis on sait faire ce genre de choses il y a très longtemps c'était la première que je connaisse en tout cas la première estimation de la vitesse de la lumière c'était par un danois qui s'appelle Romer j'en parle dans le livre qui a regardé les lunes de Jupiter et qui est la façon dont elles apparaissent et disparaissent dans l'ombre et grâce a ça il a déterminé que la vitesse de la lumière était tant et il l'avait quasiment juste c'est donc aujourd'hui ci sont tante technologies qui permettent de calcolare la velocité de la luce il laser anche de la lumière ultra précise invece in passato c'était un scienziato svedese Romer che l'aveva fatto questo calcolo che poi si era rivelato abbastanza giusto e corretto osservando le lune di Giove vedendo il tempo in cui quanto ci mettevano ad apparire a scomparire e aveva fatto questo calcolo ed era andato abbastanza vicino grazie a tutti e grazie a Christophe Galfard grazie e arrivederci